Giuditta Brattini rientrata da Gaza il 3 novembre in Italia. Qual è l'immagine che le rimane fissa nella mente? Innanzitutto i feriti che ho visto nelle immediate ore dopo il 7 di ottobre con i primi bombardamenti, quindi questi corpi straziati, arti purtroppo che erano messi in sacchetti di plastica, un'attività per i medici di soccorrere i feriti molto difficile per mancanza di medicinali ma anche materiali sanitari per poter fare la cura in maniera corretta. Tante amputazioni purtroppo le stanno ancora facendo perché mancano proprio i materiali sanitari per poter intervenire. Quindi un'immagine di dolore ancora una volta e soprattutto questi occhi dei bambini quando nel corso della notte li ho visti abbandonare le loro case tenuti per mano dai genitori che correvano nelle strade perché gli israeliani avevano avvisato che avrebbero bombardato le abitazioni e quindi andavano a cercare un riparo. All'inizio i primi giorni i primi ripari sono stati presso gli ospedali, io ero l'Ecuzza ospital e quindi arrivavano veramente a centinaia le famiglie e poi si sono distribuite nelle scuole dell'Urrua dove sono tuttora. Purtroppo sono anche posti quelli delle scuole dell'Urrua che non sono risultati posti sicuri perché abbiamo visto che sono stati purtroppo anche quelli bombardati ci sono stati morti anche lì. Negli occhi ho questi bambini, questa disperazione di questi bambini che a dieci anni hanno già visto magari tre o quattro aggressioni, cioè bambini che noi peraltro come associazione e gazzella, oltre che ad avere bambini in un progetto di adozione a distanza di bambini feriti, abbiamo anche un progetto finanziato della Chiesa Valdese con l'8x1000 che segue appunto i bambini con trauma post, quindi tutti quei bambini che hanno bisogno di un sostegno psicologico dopo questi eventi e purtroppo sono tanti. Non è il primo bombardamento israeliano su Gaza, che cosa vede di diverso rispetto a quelli degli anni scorsi? Ma allora io ero anche nel 2014 nella striscia di Gaza, i 51 giorni di attacco che è stato molto pesante, questo è qualcosa di più, intanto dobbiamo pensare che in un mese sono state già sganciate 30.000 tonnellate di bombe e questo vi deve dare già l'idea di che cos'è la distruzione perché ormai parliamo già del 40-50% delle abitazioni distrutte, ma dobbiamo fare anche un altro pensiero importante, cosa resta sul territorio e nell'ambiente di tutte queste bombe, stanno utilizzando bombe al fosforo che sono proibite, noi non riuscivamo a respirare i primi giorni con i bombardamenti perché c'erano queste nuvole di polvere bianca che bruciava agli occhi la gola, quindi anche una contaminazione da metalli pesanti che purtroppo andrà ad incidere proprio sull'ambiente, quindi sull'acqua, sul terreno e quindi anche queste conseguenze sicuramente negative per la salute della popolazione, quindi un bombardamento rispetto agli altri molto più forte e molto più, mi permetto di dire, molto più cattivo se si può definire che ci siano bombardamenti buoni, sono tutti cattivi ma questo è veramente, sta dimostrando anche la volontà di voler distruggere tutto. È chiaro che Israele quando è sotto attacco reagisce, questo lo si sapeva prima, il punto è che Hamas comunque è sempre molto forte e qualcuno dice che bisognava cercare in questi anni un'alternativa ad Hamas. Ma allora dobbiamo fare un passo indietro per capire un po' le cose. Nel 2006 ci sono state delle elezioni dove io ero osservatore, elezioni democratiche dove ha vinto Hamas, quindi il primo nodo è stato questo. Poi una comunità internazionale non ha accettato questo risultato per cui di conseguenza ci sono state anche faide interne ai gruppi palestinesi, alle fazioni palestinesi, tant'è che parte dei deputati eletti di Hamas sono stati imprigionati nella West Bank e nella striscia di Gaza invece Hamas ha preso il controllo. Da qui poi c'è stato un isolamento completo della comunità internazionale ma anche dalla stessa autorità nazionale palestinese, cioè hanno isolato proprio la striscia di Gaza che è andata sotto assedio da parte di Israele, ma mi permetto di dire anche un assedio proprio da parte dell'autorità palestinese, quindi sicuramente questo non ha aiutato, ha fatto crescere e invece Hamas che in qualche maniera ha dovuto da movimento di resistenza islamico diventare anche un movimento che governava, che non era nelle sue capacità diciamo, per cui ha dovuto prendere in mano tutta quella parte amministrativa dei ministeri, quindi dall'educazione alla salute, al sociale e governare 2 milioni e 200 mila persone perché questa è la popolazione. Sicuramente quanto è accaduto il 7 di ottobre che ha fatto scatenare poi la risposta di Israele è stata un'azione grave, però guardate e se il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres si permette di dire che la risposta di Hamas è anche il risultato di 56 anni di occupazione, cioè noi veramente dobbiamo iniziare a pensare a quella che è la storia, i 75 anni di storia del popolo palestinese, cioè dal 1948 cosa è successo e tutto quello che ci ha portato ad oggi a quella che è la situazione di un popolo che se guardiamo bene è stato sempre bombardato in particolare nella striscia di Gaza, nella West Bank anche ci sono grandi tensioni e l'Israele sta quotidianamente anche lì entrando nelle città, arrestando, uccidendo persone, ma la popolazione palestinese è ancora in Palestina, non se ne vogliono andare, quindi la comunità internazionale deve assumersi anche questa responsabilità e di trovare una soluzione che non sia, parlano di due stati, non lo so se sia possibile oggi realizzare due stati nella condizione in cui troviamo i territori occupati dove oramai praticamente Israele con i nuovi insediamenti e 700 mila coloni ha occupato anche il resto della Cis Giordania, della West Bank, quindi i due stati non lo so se sia possibile, ma sicuramente ci deve essere un tavolo serio dove si tenga conto del diritto al ritorno che è stato sancito dalle risoluzioni 194, il diritto al ritorno quindi dei palestinesi sulla loro terra e nelle loro case. Io non lo so se è possibile rimarginare il dolore di 75 anni, io questo non lo so, sicuramente però la ricostruzione va fatta tenendo conto di questi 75 anni della sofferenza del popolo palestinese che noi vogliamo cancellare con una spugna. Lei adesso qua come si sente? Ma io avrei voluto fermamente restare nella striscia di Gaza nella consapevolezza che non sarei stata, non avrei salvato la situazione o risolto la situazione, questo era un pensiero che abbiamo avuto con qualche cooperante e ci interessava poter restare innanzitutto per essere testimoni di quello che sta accadendo perché oggi c'è ancora un'informazione molto distorta, i nostri giornalisti sono ancora a seguito dell'esercito israeliano quindi non sono ancora entrati nel merito delle cose, essere presenti negli ospedali, accompagnare chi sta evacuando dalle case, si sta spostando dal nord al sud e si sposta sotto i bombardamenti, quindi avremmo voluto restare anche per essere un occhio presente. Con i nostri collaboratori palestinesi ne abbiamo parlato in particolare con i medici e sicuramente abbiamo messo sul tavolo le problematiche che c'erano, la problematica più importante era la nostra sicurezza che loro non erano in grado di garantirci perché appunto saremmo stati sì negli ospedali ma come sapete gli ospedali vengono bombardati, questa notte all'esterno dello Shifa Hospital è stato nuovamente bombardato, quindi non avremmo avuto un posto sicuro e avremmo probabilmente creato un problema in più a quelli che già purtroppo di problemi tanti devono affrontare, quindi abbiamo deciso di rientrare. È ovvio che quello che noi stiamo facendo oggi come testimonianza che sta diventando anche abbastanza impegnativa per noi tutti, però lo dobbiamo fare perché per noi è dare voce a quello che sta accadendo adesso in Palestina. Cosa si sente di chiedere agli italiani e ai veronesi anche? Ma intanto di stare attenti, di seguire le informazioni e non seguire soltanto quelle che ci danno i nostri telegiornali perché purtroppo ho guardato anche in questi giorni le notizie sono molto di parte ancora, quindi informarsi molto di più, ci sono tanti mezzi oggi per poter assumere informazioni e quindi ce ne sono parecchie che circolano, quindi proprio farsi anche un'idea che vada oltre a quel genocidio che è in corso, perché è un genocidio che è in corso, che vada oltre e capire perché questo popolo sta resistendo da 75 anni, perché non si vogliono spostare dalla loro terra. È importante capire anche questo perché altrimenti pensiamo che i palestinesi siano tutti terroristi che è quello che vogliono far passare, cioè ci dicono ma chi resta? Questa mattina un soldato israeliano in un'intervista diceva quelli che sono rimasti nei governorati di Gaza City e a nord della striscia di Gaza sono rimasti perché sono nostri nemici, no, sono famiglie palestinesi che hanno deciso di morire nelle loro case invece di andare a morire in una scuola dell'Urua o in una in una casa di Cagnunis che non conoscono. Però Hamas dice che vuole distruggere Israele. Ma ripeto, è una storia lunga che va, questo assolutamente non va bene, non è una cosa che possiamo accettare. Per cui non siamo qui a dire Israele non deve esistere. Il problema è che fino ad oggi è la Palestina che non è esistita. Sono i palestinesi che non hanno avuto una terra e la pace. Quindi ragioniamo anche su questo perché è importante conoscere per quello che dico l'informazione adesso è necessaria, la conoscenza della storia della Palestina è importante proprio perché Israele ha avuto la possibilità nel 1948 di vedersi costituire uno Stato. Dal 1948 i palestinesi uno Stato non ce l'hanno più.